Ieri è stato pubblicato il rapporto sul doloroso caso dell'ex cardinale Teodoro McCarrick. Rinnovo la mia vicinanza alle vittime di ogni abusso e l'impegno della Chiesa per radicare questo male. Sono i 30 infiniti secondi di silenzio più che le parole a raccontare il dolore di Francesco e con lui della Chiesa tutta per una delle pagine più difficili degli ultimi decenni. Il giorno dopo la pubblicazione del rapporto sull'ex cardinale responsabile di abusi sessuali su minori dimesso dallo Stato clericale nel 2019, Francesco torna ad esprimere la sua vicinanza alle vittime e ad usare toni durissimi contro la piaga della pedofilia. L'indagine è implacabile nell'individuare responsabilità ed omissioni e nel presentare una vicenda sconcertante la scalata inarrestabile di Teodoro McCarrick, abusatore seriale alla gerarchia cattolica non ha accontentato la sete di giustizia delle vittime. L'imponente raccolta di testimonianze e documenti non ha convinto alcune associazioni come la rete dei sopravvissuti di Washington che lamentano un uso sbagliato della terminologia, l'unilateralità dell'indagine e la sottovalutazione di quella che il rapporto definisce cattiva condotta del cardinale. Ciò che suscita interrogativi sono le procedure di nomine che lo stesso segretario di Stato, Cardinal Parolin, ha messo non sono state esenti da errori. Più consapevolezza, coscienze rigorose e decisioni coraggiose potranno evitare errori in futuro.